salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme dei manici borsa con la stessa lavorazione possiamo realizzare degli acchiappasogni oppure delle cornici io in questo caso ho pensato ai manici perché solitamente sono i materiali che vanno a mancarci quando magari decidiamo di fare una borsa un po particolare oppure e dobbiamo aspettare che arrivino che arrivi l'ordine o ci vuole magari noi abbiamo il cerchio più grande ci vuole un cerchio più piccolo comunque questo possiamo realizzare questi manici della misura che vogliamo utilizzando questo tubicino in plastica plastica abbastanza rigida possiamo veramente creare tanti progetti prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tiktok e lì cercherò con delle storie dei post e di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollicello in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzeremo cordino swan rosso che lavoreremo con uncinetto numero tre e mezzo un paio di forbici e poi questo tubicino come vi avevo già accennato ed è un rotolo e si chiama tubo per livella 10 mm per 15 metri di lunghezza e i rotoli ci saranno di diverse comunque metraggio 10 mm quello che poi è lo spessore del nostro tubicino è abbastanza rigido e quindi adatto a questo tipo di lavorazione prima di iniziare ci dobbiamo rendere conto di quanto vogliamo fare grande il cerchio quindi vi potete comunque bilanciare alla borsa che state facendo o comunque al progetto che state facendo sia che sia una borsa e quindi realizziamo i manici sia che sia magari un una cornice una chi appa sogni o quant'altro allora prendiamo il metro questo ad esempio così per come si crea a una un diametro di 14 cm circa 13 cm e mezzo quindi se questo pezzetto va bene prendiamo un altro pezzetto quindi mi raccomando preparateli prima tutti e due così saprete con precisione quanto quanto li dovete fare lo mettete così e andiamo qui con le forbici a tagliare il tubicino ok la misura del tubicino che sto utilizzando io tanto per darvi tutte le informazioni in lunghezza è di 36 cm dopo aver tagliato tutti e due i tubicini ci serve solo prendere un altro pezzetto quindi in questo caso ora vi faccio vedere anche quanto misura ne taglio un altro pezzetto e vi dico subito all'incirca 5 cm lo taglio guardate qui nella parte centrale lo taglio a metà così e ne tolgo un pezzetto quindi tenete conto di toglierne un pezzettino guardate questo è quello che ho tolto io del tubicino arrotoliamo su se stesso il nostro tubicino tagliato prendiamo un'estremità guardate come lo inseriamo all'interno quindi un'estremità del tubo mi raccomando prima di inserirlo ecco proprio attorcigliamo e lo iniziamo ad inserire direttamente dopo di che prendiamo l'altra estremità e la inseriamo dall'altra parte quindi ricongiungiamo i due pezzetti di tubicino che abbiamo tagliato guardate qui dove c'è l'unione prendiamo un pezzetto di nastro adesivo e lo inseriamo quindi facciamo passare il nostro adesivo precisamente qui per non distaccarsi ora che abbiamo creato il nostro cerchio guardate possiamo iniziare la lavorazione con il cordino prendiamo il cordino rosso e poco prima l'unione iniziamo la nostra lavorazione quindi mettiamo il cordino il cordino in corrispondenza del tubicino entriamo dalla parte di sotto con l'uncinetto e ci tiriamo un estremità da questa parte e facciamo una catenella ora dobbiamo lavorare le maglie basse guardate entriamo dall'altra parte nello stesso tempo ci fermiamo la codina iniziale del cordino questa qua quindi ce la lavoriamo e continuiamo facendo le maglie basse passando da una parte e l'altra del tubo quindi passiamo da qui ci tiriamo il cordino e facciamo la maglia bassa ci tiriamo il cordino così e realizziamo la maglia bassa il numero di maglie che dovete realizzare e in base i materiali che state utilizzando e sicuramente deve essere una lavorazione molto stretta quindi non c'è un numero preciso di maglie da inserire basta che ricopri a te il manico quindi in questo caso il tubo vicino e continuiamo così fino ad arrivare all'altra estremità lavorando una maglia bassa proprio una dietro l'altra per ricoprire tutto il nostro tubo dopo aver ricoperto tutto il tubo vicino guardate sono arrivata qui alla fine posso tagliare il filo un pochino più lunghetto lo sfilo entro da questa parte e prendo il filo non nel primissimo punto ma nel secondo punto e poi rientro prendendo metà costina e riprendo il filo e lo tiro ho creato la solina finta del lavoro e ora questo filo lo faccio passare in fra le maglie anche con l'uncinetto oppure vi potete comunque servire di un ago comunque lo nascondiamo fra le maglie e il nostro manico è pronto dopo aver tagliato l'estremità dopo averla ben fissata prendiamo l'accendino bruciamo l'estremità e l'attacchiamo direttamente al lavoro facendo così ecco la stessa cosa fate con quello iniziale che abbiamo comunque inserito all'inizio per farlo completamente e sparire questo si fa anche per non per far sì che il cordino non si sfili e si sfili poi il lavoro qui abbiamo terminato il maniche pronto l'altro ce l'abbiamo qui guardate quindi abbiamo i due manici questi li ho creati con un cordino più fine guardate che sono carini con un cordino lurex quindi più elegantini sempre della stessa misura poi voi vi potete sbizzarrire crearne più piccoli e più grandi quello però che il consiglio che io vi do è di non farlo tanto di non farli tanto grandi perché giustamente essendo pure un tubicino deve avere agio anche a tenere la borsa quindi nelle borse dove noi inseriremo un pezzetto di manico e il modello adatto proprio secondo me per questo tipo di manici io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile se così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video